molti aspiranti ex fumatori si fanno questa domanda qual è il momento migliore per smettere in prima approssimazione potremmo rispondere ora adesso ed è la risposta che danno quasi tutti gli esperti il principio che sta alla base di questa risposta il seguente se tu dici che ora non è il momento adatto perché dovrebbe esserlo tra una settimana o tra un mese questo momento rischia di non arrivare mai in verità un momento ideale c'è è il momento in cui lo sforzo richiesto per smettere è minimo perché ricordati uno sforzo di volontà è comunque sempre richiesto e quando smetti ci possono essere alcune conseguenze noiose anche se destinate a sparire presto il fatto è semplicemente che se smetti nel modo giusto lo sforzo richiesto sarà minimo e le conseguenze saranno trascurabili molto minori di quelle a cui vanno incontro solitamente i fumatori che smettono così a casaccio quindi ora e adesso sarebbe il momento giusto per smettere ma se dopo aver smesso entri in uno stato di depressione di irritabilità costante di disperazione ti attacchi ai cioccolatini e continua a desiderare la sigaretta beh mi dispiace ma non hai smesso semplicemente ti stai astenendo dalla nicotina ti stai sforzando per non fumare più insomma ti stai forzando a fare una cosa che non vorresti ma sei ancora in verità dipendente e rischi quindi di ricascarci alla prima occasione scoprire se sei in questa condizione molto semplice fatti una domanda avresti voglia di fumarti una sigaretta se potessi se la risposta è sì sei ancora dipendente dalla nicotina e per desiderio non intendo un qualcosa che origina dalla tua volontà ma un qualcosa che provi che tu lo voglia o no che non dipende da te una voglia che puoi decidere di non sentire a cui non dare retta ma che non puoi evitare di avere oppure scopri di essere in questa situazione se ti sei in qualche modo pentito di avere smesso in questo momento e pensi che avresti potuto aspettare ancora un po di tempo magari un momento migliore per appunto e quando forse tra una settimana perché il problema si sarebbe ripresentato uguale tra una settimana e no ma io ho sbagliato a volere smettere in questo periodo di particolare stress smetterò quando sarò in un momento migliore quando sarò più sereno magari quando vado in vacanza no anzi è vero il contrario quando ho smesso ad esempio io era un periodo di forte stress di forte insoddisfazione non ne potevo più del mio lavoro ero un sovrappeso e in particolare il giorno in cui ho smesso mi ero sottoposto ad un intervento chirurgico fastidioso per il ribassamento di una gengiva c'era anche un caldo affoso quel giorno insomma ero stressato insoddisfatto al massimo non potevo in quei momenti fisicamente fumare quindi mi sono messo a letto con il ghiaccio preso un antidolorifico mi sono riposato e piano piano mi sono addormentato la mattina mentre uscivo di casa e andavo al lavoro mi sono detto visto che non fumo da ieri continuo a non fumare per un po così rischio di non rischio di fare danni e almeno prendo un po d'aria un po di tregua e così ho continuato perché non ne potevo più delle sigarette e perché sapevo che una volta disintossicato lo stimolo dato dalla nicotina sarebbe passato e così è stato ed è importante che tu abbia ben presente questa prospettiva ed è stato relativamente facile perché avevo già superato ampiamente la dipendenza a livello inconscio profondo vedendo la prospettiva di smettere come una liberazione finalmente ma se tu non sei arrivato ancora a questo punto se la sola idea di smettere ti fa andare nel panico se tu vedi la sigaretta come la tua migliore amica se odi tutti quelli che ti parlano di salute o gli ex fumatori beh allora mi dispiace ma ci sei dentro fino al collo potresti provare a smettere sì ma dubito che la cosa sarebbe in dolore comincia da oggi ad entrare veramente nella prospettiva di diventare un ex fumatore non forzare i tempi ma comincia a crederci veramente e ad avere fiducia che sia possibile non importa che razionalmente ti sembri impossibile perché tanti altri come me ce l'hanno fatta e sono felicissimi e non hanno dovuto rinunciare proprio a niente semplicemente sono guariti da una malattia che si chiama tossicodipendenza per me è stato facile smettere proprio in un periodo di grande stress perché lo stress della nicotina del dover fumare si sommava agli altri quindi smettere mi ha dato sollievo e ti accorgi quando sei arrivato a questo punto quando vedi la sigaretta più come un dovere che come un piacere questo è un processo di crescita interiore e il quando arriva il momento giusto non dipende dalla tua volontà sono sicuro che sei dotato di una viva intelligenza di un carattere forte bene queste cose ti serviranno in altri ambiti ma non qui qui non è una questione di forza è una questione di sintonia di cambio di prospettiva e quindi di cambio interiore questo è il primo processo di guarigione necessario il secondo sarà il disintossicarti fisicamente dalla nicotina ci vogliono due tre settimane ma è la parte meno complicata perché se vedi le cose nella giusta prospettiva sarà un processo di guarigione e quei piccoli disagi dovuti all'astinenza da nicotina li vedrai e li percepirai come quei piccoli dolorini che ci sono ancora quando stai guarendo da qualche male e ti assicuro che una volta superata la soggezione mentale grazie a questa prospettiva positiva è possibile è piacevole fidati lo hanno fatto tanti altri prima di te e sarà così anche per te e una volta che i meccanismi inconsci si saranno adeguati arriverà il momento in cui starai come mordendo il freno per liberarti quindi non avrai più quei terribili episodi di depressione che avevi i primi giorni quando cercavi di smettere ma ti sentirai al massimo solo un po' spaisato e sarà anche una cosa stimolante nuova avrai qualche piccolo fastidio che imputerai proprio alla nicotina odiandola sempre di più è così che si smette per aiutarti a ribaltare la prospettiva ti consiglio il solito classico libro di allen car che trovi anche qui sotto nella descrizione e mi raccomando leggere con umiltà e a cuor leggero spesso i fumatori non ti offendere sono persone un po' presuntuose e chiuse di mente spesso bene un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti